Ciao amici di Guitar Tutorials, sono Matt Bidoglia e con questo video io e Polaudia avremo l'onore e il piacere di presentarvi le nuovissime corde di Casa D'Addario, le NYXL. Cogliamo l'occasione per ringraziare Riccardo Travaini, Eric Denti e tutto lo staff di Bodes RL per averci fornito in anteprima queste corde da testare per voi e per la collaborazione che andremo a fare e che inizierà proprio con questo video. Partiamo dalla confezione, il nuovo packaging è molto molto elegante, accattivante, rock, la caratteristica principale è quella di avere una colorazione differente sui numeri della scalatura così da poter distinguere i diversi diametri delle corde. Una curiosità, perché NY? Perché a D'Addario ho voluto dare, rendere omaggio alla città di New York, la città che ha dato i Natali all'azienda e nella quale le corde sono prodotte e progettate. I due aspetti principali sui quali l'azienda ha lavorato per innovare realmente questa nuova tipologia di corde sono la resistenza e l'affidabilità in termini di accordatura. Si parla addirittura di un 30% in più. Gli ingegneri da D'Addario hanno studiato un nuovo sistema di anticorrosione che permette alle corde di essere più performanti e più longeve. Le nuove corde hanno il 6% di permeabilità magnetica in più che conferisce una maggiore uscita nel range frequenziale e un maggiore punch, una maggiore aggressività a livello sonoro. Tutta la struttura delle NYXL è stata completamente rinnovata rispetto alle corde precedenti. A partire dall'anima, formata da una nuova lega di acciaio e carbonio, fino ad arrivare al rivestimento in nickel della serpentina che avvolge la corda. A partire dall'anima, formata da una nuova lega. A partire dall'anima, formata da una nuova lega. A partire dall'anima, formata da una nuova lega. Abbiamo avuto delle ottime sensazioni provando queste nuove corde La risposta sonora, la timbrica sono state molto molto soddisfacenti Nella prossima parte del video potrete vedere un test che abbiamo studiato appositamente Per farvi apprezzare l'affidabilità in termini di accordatura delle nuove da Dario Per farvi apprezzare l'affidabilità in termini di accordatura delle nuove da Dario Per farvi apprezzare l'affidabilità in termini di accordatura delle nuove da Dario Per avere maggiori informazioni su queste bellissime corde Vi invitiamo a visitare il sito di BodeSRL e il sito ufficiale da Dario Che troverete nella descrizione di questo video Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video test Grazie per la visione!